occhio eh c'è uno che picca dalla porta fissa, non di lì eh bandit attento c'è bandit a piccare tutto a destra dentro però eh bravo drona drona prendi il drone questo qua a zii fidati che mi resetta nessuno stella colpando pistola colpando morta no bravissimo l'abbiamo recuperata no No, 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 no.